Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare sulla rete autostradaria regionale. In FIPILI per lavori, code di un chilometro tra la Strassigna e Ginestra, verso Livorno, e in carreggiata opposta tra Montelupo e Ginestra. Sempre per lavori, code ad un chilometro verso Firenze, tra BVOSGC, FIPILI di Ramazione Pisa e Ponte d'Araove Sponsacco. Coda per lavori, inoltre, in direzione SGC Firenze-Livorno, tra Cascina e il BVIO di Ramazione Pisa, SGC FIPILI. Tiamo pagina per il traffico ferroviario. In seguito al ritardo del treno 2308 Roma-Firenze, che ha maturato 25 minuti di ritardo, in stradato in linea tradizionale da Settebagne, è stato predisposto a cura della direzione regionale Trenitalia-Toscana. Un bus da Chiusi-Chianciano-Terme a Siena, confermati a richiesta. Muoversi in Toscana Infi, un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!